Finalmente dopo anni di incertezza per gli investitori in criptovalute interviene il legislatore con la legge di bilancio per il 2023 che al momento 24 novembre è ancora in bozza ma che sta per delineare con precisione una disciplina fiscale in ambito cripto e lo fa, attenzione, non in maniera spot o andando a intervenire un po' un qua un po' là come ci hanno abituato i governi negli ultimi 10 anni ma lo fa con un provvedimento strutturale. Che cosa significa strutturale? Significa che si va a inserire nel nostro sistema giuridico nello specifico nel testo unico dell'imposto del reddito ma anche sulle norme sull'antriciclaggio ma anche sulle norme del monitoraggio fiscale riferimenti chiari e precisi alle criptoattività, attenzione, nella loro più ampia accezione. Quando dico nella loro più ampia accezione mi voglio riferire a quello che c'è scritto qua. L'articolo introdotto che è il CIS Access dice Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso permuta o detenzione di criptoattività comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti e continua fissando questa franchigia di 2000 euro. Che significa? Significa praticamente qualsiasi provento comunque realizzato ovunque realizzato. E quali sono quindi i punti fondamentali della nuova disciplina se verrà così confermata dopo l'iter parlamentare? Io sono Carlo Alberto Micheli, avvocato e dottore commercialista, founder del percorso formativo CryptoTax, un percorso formativo che ha visto negli ultimi due anni una partecipazione molto importante di numerosi investitori che ad oggi hanno concretamente regolarizzato e sono concretamente in regola con le disposizioni fiscali perché questa normativa vedrà la luce dal 2023 per i redditi del 2022 e dice nello specifico per chi non è in regola al 31-12-2021. Quindi chi è in CryptoTax e ha seguito il mio iter può stare sereno che non ha da pagare niente. Ahimè, chi non ha dichiarato e chi non ha dichiarato in costanza di redditi prodotti dalle monete virtuali dal 2023 sarà soggetto a importanti sanzioni. C'è un modo per evitare queste sanzioni? Lo spiego all'interno della mia community se non sei ancora entrato. Qua sotto in descrizione al video ti lascio il link per poter accedere con priorità e magari evitare di pagare tutte queste imposte, queste sanzioni di interessi se non hai ancora dichiarato. Quindi quali sono le novità che vedremo? Vedremo un'esenzione, una franchigia di 2.000 euro al di sotto delle quali le plusvalenze e gli altri proventi o minusvalenze realizzate nella criptoattività non sono da considerarsi fiscalmente rilevanti. Che cosa significa? Non è una soglia di giacenza fiscale come c'era fino al 31-12 di quest'anno di 51.000 euro. Se tu... la soglia non esiste più, ok? Non esiste più la soglia di 51.000 dal 1 gennaio 2023. Non esiste più questa. Quindi se tu hai realizzato delle plusvalenze o delle minusvalenze inferiori a questa cifra è fiscalmente rilevante. Quando superi questa cifra invece si va a tassazione. Vedremo anche con quale modalità di tassazione all'interno di CryptoTax. Avremo poi una definizione chiara di che cosa si intende per plusvalenza e come questa plusvalenza la si calcoli. Avremo, e questo è importante, l'onere di documentazione e di rendicontazione in capo al contribuente delle operazioni fatte, ok? La possibilità di rivalutazione o quindi rideterminazione del valore delle criptoattività, l'articolo 32 della bozza, del valore attraverso il pagamento di un'imposta secca del 14%, e qui è la vera novità. Cioè io posso rideterm... ho correttamente dichiarato, ho correttamente assolto i miei obblighi di monitoraggio fiscale, ho determinati valori, li ridetermino al primo gennaio 2023, pago un'imposta secca del 14%. Poi abbiamo una regolarizzazione precisa e puntuale delle criptoattività per chi non ha presentato appunto la dichiarazione dei redditi né pagato imposte, e questo è un punto fondamentale perché dobbiamo distinguere chi non l'ha presentato e ma non doveva pagare imposte pagherà, secondo quanto detto all'articolo 32 della bozza, un'imposta dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate. Per chi invece aveva redditi c'è anche un'imposta sostitutiva del 3,5%, ma attenzione, senza la franchigia. Quindi dobbiamo prendere tutti i redditi conseguiti, ricalcolare e applicare questa imposta. Possiamo evitarlo, sì, se regolarizziamo tutto, a mio avviso, entro il 31-12. Questa è legge definitiva? Non è legge definitiva, quindi potrebbe anche modificarsi, ad esempio, l'ultimo giorno dell'anno, o comunque, o no, l'ultimo giornale, l'ultimo giorno prima dell'approvazione che potrebbe arrivare anche a fine anno. Ormai i governi ci hanno abituato anche a questa. Quindi le basi di partenza sono buone, possiamo dar finalmente una luce ad un mondo che è ancora contaminato da incertezze. Vedete nella bozza, ve lo faccio vedere, voi nella bozza all'articolo 30 trovate quella che è la novità, quindi l'introduzione di una norma DOC per la franchigia di 2000, che è l'articolo, che è la disposizione, il C-Sexes all'articolo 67, quello che ormai abbiamo imparato a conoscere. Abbiamo visto la franchigia, diamo una definizione di plusvalenza, indichiamo anche che cosa succede, come si determinano i valori in caso di donazione e di successione. Poi vediamo questo, che sono tutte le modifiche alle altre leggi aggiungendo le criptoattività. E quindi questo significa che è un ingresso strutturale nell'impianto giuridico, e guardate quanto è importante, un ingresso strutturale nel nostro sistema giuridico. Usa parole molto importanti per far rientrare tutti i proventi, perché uno comincia a dire ma io faccio staking, ma io faccio minting, ma io faccio mining. Allora qui la norma comincia a dire proventi realizzati in questo mondo. Vedremo poi come la rideterminazione è l'articolo 32, rivaluti tutto, paghi il 14%, anche in tre rate, possibilità di minusvalenza, senza possibilità di recupero della minusvalenza se uno fa le rideterminazioni, e poi parla dell'articolo 33 come si deve regolarizzare chi ad oggi non ha ancora pagato. Quindi se vuoi sapere di più e vuoi entrare nei miei percorsi formativi, chi è dentro già dal 2020, ha tutti questi aggiornamenti gratuitamente, perché sono già dentro la comunità. Chi non è dentro avrà degli oneri da fare e dovrà sapere come farli e magari farli con priorità per evitare di sprecare soldi. Quindi ti lascio il primo link in descrizione. Ci vediamo all'interno della community CryptoTax dove affronteremo tutto questo in maniera precisa, puntuale e secondo le scadenze che verranno determinate. Da qui ad approvazione della legge di bilancio per il 2023. Da Carlo Alberto Michele è tutto, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.